ciao scusa la faccia ma sono le 5 e mezza di mattina mi trovo qui a Tarquinia spero che tu mi possa sentire perché ho dimenticato gli auricolari e c'è tanto tanto vento comunque volevo fare questo video proprio per non solo farti vedere il panorama stupendo veramente un posto bellissimo qui dove ci sono accaduto un sacco di miracoli non so se mi hai seguito ieri stavo riflettendo in questo momento che è più di un mese che sono in viaggio non mi sono mai fermata e mi sono spostata tra Lanzarote, Portogallo, Italia, Francia adesso sono tornata in Italia e quello che stavo pensando adesso visto che quando mi sono svegliata al mattino non capivo neanche dove mi trovavo stavo proprio riflettendo sul fatto che noi abbiamo bisogno di perdere ogni tanto i nostri punti di riferimento perché questo perché quando noi perdiamo i punti di riferimento cosa succede? succede che si libera non solo la nostra creatività ma anche la nostra capacità di poter immaginare una vita diversa di poter andare oltre quelli che sono i nostri limiti che ci siamo costruiti ed è veramente favolosa questa cosa perché nel momento in cui perdi tutti i punti di riferimento praticamente non sai più dove sei tra virgolette chi sei non hai più neanche una routine perché sei un giorno qui un giorno lì due giorni dall'altra parte e questa cosa qua è fondamentale ed ha delle analogie anche con quello che stavo pensando che noi stiamo facendo fare agli allievi del percorso intensivo avanzato vita straordinaria perché una delle cose che gli faccio fare non è tanto il viaggiare a volte può capitare però non è diciamo quello il centro è proprio perdere i punti di riferimento che normalmente le persone hanno e che sono delle gabbie che gli impediscono anche solo di poter immaginare una vita diversa anche solo di poter pensare che sia possibile perché si ritrovano chiusi bloccati in tutta una serie di modalità di pensiero di azione in abitudini che li tengono sempre nello stesso posto anche se quel posto non gli piace io ritengo fondamentale farlo anche quando la vita ti piace la mia vita mi piace me la sono costruita io esattamente così come la mia anima mi ha indicato esattamente così come la vorrei vivere e quindi teoricamente non avrei bisogno di farlo ma in realtà sì perché comunque noi siamo esseri in divenire in continua evoluzione abbiamo bisogno di crescere e di cambiare per quanto possa fare paura questo pensiero perché la maggior parte delle persone quando gli dici o gli parli di cambiamento beh sono terrorizzate ma perché comunque hanno bisogno si illudono di aver bisogno della sicurezza in realtà quando provi l'insicurezza e l'incertezza e ti godi quell'incertezza diventa sorpresa e questa è una cosa meravigliosa che tutte le volte che mi sveglio e che sono in una di queste situazioni nuove dove non so cosa tra virgolette aspettarmi anche se magari lavoro con la manifestazione ma poi la vita è più brava di me e riesce sempre a sorprendermi beh questa cosa è veramente fondamentale l'incertezza quando diventa sorpresa è un dono mentre generalmente le persone vivono l'incertezza come un nemico e quindi si perdono tutte le cose belle della vita perché nel momento in cui tu vivi una vita certa beh mi viene un paragone solo con la staticità e la staticità è la morte cioè non è una morte fisica ma è una morte interiore tu hai bisogno di vivere sei un essere con due gambe non sei neanche un albero per quanto gli alberi siano vivi a volte più di noi non sei un albero hai due gambe sei fatto per spostarti per muoverti non solo a livello fisico camminando ma muoverti proprio nella vita per evolvere per crescere e quindi se tu non fai questi passaggi non ti vivi bene la sorpresa è qualcosa che ti blocca e che ti impedisce di fare tutta una serie di scelte che in realtà sono connesse alla vita poi le persone mi dicono ah io la mia vita non mi piace non so neanche cosa voglia dire vivere una vita straordinaria non so neanche questa anzi questa parola vita straordinaria mi fa anche un po' girare le scatole perché non è una cosa talmente lontana dalla mia idea e dalla mia modalità di vivere che mi da per sé in fastidio ma io dico questo fatti due domande datti due risposte perché comunque se ti dà fastidio anche solo il concetto che il concetto bellissimo perché è la tua vita straordinaria quello che tu hai la possibilità di vivere di creare in questa vita e ti dà solo fastidio pensarlo e perché hai talmente paura e talmente tanti blocchi sei talmente attaccato ai tuoi punti di riferimento da impedirti anche solo di immaginare una vita meravigliosa diversa straordinaria una vita che ti sta chiamando in realtà anche perché sennò non sentiresti quel disagio che ti fa dire la mia vita non mi piace magari a volte te lo nascondi dicendo faccio qui faccio la vedo su vedo giù faccio un sacco di cose nella mia vita che poi magari mi fanno tutte schifo come quelle che facevo io prima di cambiare la mia esistenza e come quelle che facevano tanti dei miei allievi che magari erano impegnatissimi avevano tutta una serie di incombenze nella loro esistenza ma in realtà stavano vivendo la vita di qualcun altro la vita che gli era stato insegnato a vivere perché questi punti di riferimento sono delle gabbie che vengono tramandate addirittura dei genitori dalla famiglia dalla società e sono dei punti di sicurezza che creano la prigione la prigione in cui molte persone si chiudono a cui molte persone si attaccano perché pensano che sia l'unica cosa giusta da fare ed è per questo che io suggerisco anzi faccio fare ai miei allievi tutta una serie di attività che fa mettere loro in discussione questi punti di riferimenti anzi glieli fa distruggere così che loro siano liberi di fare un sacco di cose ti faccio l'esempio più in questi giorni di Sara non l'ho ancora fatto l'intervista ma Sara ad esempio in questi giorni ha mollato un lavoro che aveva da una vita che le stava veramente stretto e adesso sta viaggiando non la ferma più nessuno è lì che si sta muovendo come una pazza sta recuperando il tempo perduto sta recuperando tutto quello che la sua bambina interiore le sta suggerendo di fare sta facendo tutte quelle cose che si è impedita di fare per una vita perché aveva quei punti di riferimento e pensava di non poter andare oltre quello che aveva fatto fino a quel momento quindi il mio stimolo di oggi è questo pensa quali sono tutti i tuoi punti di riferimento quelli che ti tengono imprigionati in una vita che magari non vuoi tutti quelli che vedi come certezze che magari non riesci neanche a mettere in discussione e pensa ad un modo per toglierti da quel punto di equilibrio che ti sei creato così forte così stabile così limitante in modo da poter finalmente aprire i tuoi orizzonti e poter anche solo immaginare una vita diversa questo è il mio stimolo e quindi ti auguro un buon lavoro e soprattutto fammi sapere com'è andata ci vorranno un po di giorni ma io aspetto ciao un abbraccio di luce grazie 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 grazie